Forma di violenza, perché comunque mi viene iniettato qualcosa, ho deciso che non era sufficiente quello che me ne aveva mostrato, dato. Precisa subito le motivazioni della sua contrarietà al siero anti-covid. Il dottor Roberto Bocchianeri, 57 anni, aiuto chirurgo presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale all'IRCA di Ancona, così come sua moglie, è stato sospeso dal servizio a causa del rifiuto alla somministrazione del vaccino. Ho contestato altre volte, non lo chiamerei vaccino, ma lo chiamerei terapia genica sperimentale, per cui non mi sono fidato fin dall'inizio, perché nel momento in cui si tratta di fare una sperimentazione, prima voglio essere sicuro, voglio avere la certezza di che cosa mi dovrei fare inoculare, poi nel momento in cui ho le certezze potrei anche accettarla, a questo punto no. Per questa decisione Bocchianeri è stato sospeso ufficialmente l'11 agosto scorso, dopo aver comunicato all'azienda del provvedimento è arrivato dall'ordine dei medici, a sua moglie invece è toccato nei primi giorni di settembre. Senza stipendio e ora come riuscite a mantenere la famiglia? Beh, qualche cosina da parte ce l'abbiamo, si tratta di fare sacrificio, però insomma per portare avanti questa battaglia, che credo sia una battaglia giusta e legittima, siamo disposti a fare dei sacrifici. E poi sperate di riprendere la vostra attività ormai il prossimo anno? Ma io in questo momento ho sospeso qualunque tipo di pensiero, certo è ovvio che spero di poter tornare a rendermi utile per le persone che stanno male, perché ho scelto di fare questo lavoro e credo di essere nato proprio per farlo, perché non ho mai avuto un dubbio su quello che faccio, credo anche mia moglie. Quindi siamo intenzionati a tornare a dare il nostro contributo alle persone che soffrono, se ci permetteranno, se ci metteranno in condizione di volerlo fare, altrimenti mi dispiace, ci rivolgeremo a qualcos'altro. Si parla spesso di ricatto, anche lei ritiene che sa così. Assolutamente sì, questa è una forma di ricatto, perché secondo me, io credo che, al di là di queste fazioni che si sono create, i pro e i contro, io credo sempre che avrei accettato che da sentirmi dire dalle persone che magari mi potevano dare anche dell'imbecille perché non ha accettato la vaccinazione, però essere uniti perché comunque sia, questa è una battaglia di civiltà. La divisione credo che non porti a nulla, bisogna soltanto essere uniti e combattere insieme. Ci sono anche altri medici o infermieri che seguono il vostro pensiero? Ma certo sono tanti, non solo, anche coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione a torto collo perché non potevano fare diversamente. Ci sono famiglie monoreddito e con più figli, ha raccontato il dottore, ed è ovvio che non possono permettersi di stare neanche un mese senza stipendio, di conseguenza hanno dovuto accettare la vaccinazione. Forse se si fosse dato più spazio all'inizio a spiegare i pro e i contro legittimamente alle persone potevano accettare serenamente e poi magari poteva essere un esempio anche per chi non voleva. Credo che sarebbe stata una forma più democratica e avrebbe raccolto in maniera più serena tutti quanti quelli che sono stati vaccinati. Invece ora si è creata una divisione, una separazione che non porterà secondo me a nulla di buono. C'è stato in questi mesi qualche episodio particolare che avete vissuto? Beh sì, sicuramente quello che è stato probabilmente è paradossale, più che il fatto che sia stato a novembre del 2020 mio figlio ha preso il Covid, fortunatamente una forma che in due giorni si è risolta, febbricola, però in quel periodo la mia azienda mi ha praticamente precettato, cioè sono stato costretto a venire a lavorare. Allora la considerazione che faccio è se quella volta non ero pericoloso, credo di non essere pericoloso nemmeno adesso. Se adesso sono un problema e mi si tiene a casa, forse ero un problema anche quella volta.